Sono cinque anni che aspettiamo, vogliamo che questa infrastruttura venga realizzata e quanto dichiarato ai nostri microfoni dal consigliere di minoranza del comune di Agropoli Consolato Natalino Caccamo in merito alla realizzazione dell'area PIP in località Mattine mettendo in risalto la problematica legata ai diversi incidenti stradali che troppo spesso avvengono sul posto. Così il consigliere Caccamo risponde al sindaco Adamo Coppola il quale aveva precisato che l'opera è rimasta incompiuta per mancata autorizzazione da parte dell'ANAS. Questa è una pezza a colore amministrativa, noi abbiamo pagato quell'opera per interezza, l'opera prevedeva appunto la realizzazione delle infrastrutture, era un primo lotto pagato circa 5 milioni di euro, le infrastrutture della zona industriale, la pubblica illuminazione, i gardarei, addirittura vi era previsto un parco giochi in località Mattine, doveva rinascere ci fu detto nel 2015, ci fu detto che quell'investimento si doveva rilanciare quella periferia, purtroppo così non è stato, la cosa più grave sono gli incidenti stradali che avvengono a causa della canalizzazione, maldestra canalizzazione esistente in quella località. Con questo intervento, con quest'opera pubblica si voleva indirizzare anche la risoluzione di questo problema, sono 5 anni che aspettiamo, siamo stufi delle scuse e vogliamo che questa infrastruttura venga realizzata.